Buona giornata, buona giornata Ciao amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è martedì 9 aprile 2024 e oggi si festeggia un santo che visse lontano ma che noi troviamo vicino, ebbene è San Demetrio, San Demetrio riposa, anzi riposava a San Lorenzo in campo, ora si trova a Salonico e a Tessalonica, così si chiamava anticamente la città della Grecia perché è un santo molto molto venerato in Oriente. Bene, San Demetrio di Tessalonica, eccolo, lo vediamo qui nella grafica, era un soldato chiamato dai greci megalomartire, è il più famoso dei soldati martirizzati d'Oriente, pensate, fu imprigionato sotto l'imperatore Diocleziano, siamo nel III secolo, morì nella città di Sirmio, l'attuale Mitrovice in Serbia. Le sue reliquie poi, beh, ci sono state delle vicende, ma queste reliquie dei Santi d'Oriente poi durante il Medioevo sono state un po' depredate, portate via, sparse un po' in tutta Europa. Ebbene, le reliquie si sono conservate nella chiesa lui dedicata a San Lorenzo in campo, poi sono state restituite con una grande bella cerimonia a Salonico, dove la venerazione è molto sentita e il santo è molto presente, molto molto venerato dai fedeli ortodossi della Grecia. Quindi San Demetrio di Salonico, III secolo d.C. Eccolo qua. Ciò detto, passiamo alle previsioni del tempo. Oggi abbiamo un tempo stabile, con fasi soleggiate, inframmezzate però da sterili velature, leggere velature in cielo. Sono velature di passaggio, le temperature 11 la minima, 26 la massima, temperature veramente estive, non più primaverili. E in pianura sarà però più fresco sulle coste, mentre nell'entroterra sarà ancora più caldo. Abbiamo noi, grazie alla ventilazione, che ci giunge un po' da oriente. I venti sono deboli da sud-est nelle coste, nell'interno da ovest-sud-ovest. Il mare è leggermente mosso, il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.43. Ed ora apriamo il Quarriera dei Attico questa mattina sulla pagina di Fano e vediamo quello che si sta svolgendo proprio in questi giorni in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è stato convocato con una lunga seduta che poi verrà replicata anche stasera, probabilmente anche domani e i giorni successivi, perché si stanno approvando una per una tutte le contradduzioni che i tecnici dell'urbanistica hanno apportato alle osservazioni dei cittadini, osservazioni che sono state fatte al nuovo piano regolatore generale. Ogni cittadino ha potuto così osservare, cioè proporre delle alternative alle decisioni dell'amministrazione comunale, le quali poi sono state valutate dai tecnici dell'urbanistica e portate in Consiglio con un parere favorevole o un parere sfavorevole. Sono 270 le osservazioni ma sono articolate in più punti, quindi abbiamo oltre 400 punti all'ordine del giorno in cui poi si esprime la votazione dei consiglieri. E tra queste c'è anche quella dell'ex zuccherificio. Ebbene, nell'ex zuccherificio all'interno del Partito Democratico abbiamo delle posizioni contrastanti. C'è l'assessore all'urbanistica che propone l'approvazione del polo alimentare, di questo polo di stoccaggio di generi alimentari, che però insomma vediamo che c'è maretta perché la capogruppo del Partito Democratico, che è Agnese Giacomoni, insomma obietta a questa decisione. Ex zuccherificio dobbiamo tutelare la salute degli alunni e dei residenti, dice la Giacomoni. Appello alla maggioranza della capogruppo per approvare l'osservazione contro il polo logistico. Il polo logistico è un provvedimento suggerito ovviamente dalla proprietà che sarebbe disposta a finanziare finalmente la ristrutturazione di tutta l'area che è abbandonata da oltre vent'anni ed ora ci sono ancora dei contrasti. Insomma forse è questa contraddizione che ancora permane all'interno del Partito Democratico che poi determina i risultati che abbiamo visto anche a livello elettorale. Giacomoni richiama i principi di Fano, città dei bambini, dal sindaco un vero colpo di spugna, ha dichiarato. Insomma all'interno della maggioranza c'è ancora diversità di vedute. Il centro-destra invece va avanti, lo vediamo qui in questo articolo a fondo pagina dove si fanno delle opere. Si fanno delle opere e finalmente si restaura anche Ponte Mimmo, uno dei ponti storici. C'è stato fatto nel 1981 a cavallo del torrente Arzilla, era ormai degradato e quindi la regione che ne ha la proprietà è corsa ai ripari. Con un finanziamento di 280 mila euro ha finanziato dei lavori che rinforzano i piloni di sostegno del ponte, si rifà la soletta, si rifanno anche le spallette, insomma si dà un decoro a questo angolo ancora intatto, meraviglioso del torrente Arzilla. Si trova a poca distanza dal nucleo urbano, lì vicino c'è tutta la zona della trave, c'è la zona sportiva, sì, ma c'è anche l'abitato della trave, ma basta fare qualche passo in più per trovarsi in un contesto ambientale veramente molto molto bello. E qui vediamo come l'articolo evidenzia che in questo posto si abbeverano gli aeroni, caccia la volpe, costruisce la sua tana e il tasso, fa la sua comparsa il capriolo, oltre a nodificare una molteplicità di uccelli. Ebbene il ponte dell'Arzilla, reso più funzionale, più bello, più decoroso, costituisce ancora un intervento molto bello che si fa sul torrente. E ieri a evidenziarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, insieme al sindaco di Fano Massimo Seri e all'assessora ai lavori pubblici, Barbara Brunori. Ed ora passiamo ai commenti per le recenti elezioni primarie, quelle di domenica scorsa, che hanno visto prevalere con il più alto numero di voti, di Samuele Mascarin. Mascarin e Fanesi sono i due che si confronteranno al balottaggio domenica prosta, sono fiduciosi per l'esito, ciascuno ovviamente a suo vantaggio. Mentre coloro che non sono riusciti ad avere un numero sufficiente di consensi, Fattori e Lucarelli, Cora Fattori e Etienne Lucarelli, dice adesso facciamo squadra. C'era stato un patto preventivo tra i quattro che coloro che avessero perso le primarie avrebbero poi sostenuto il candidato sindaco che avrebbe espresso la solidarietà di tutta la coalizione del centro-sinistra. Gli esclusi però non rivelano le indicazioni ai loro elettori per il secondo turno del centro-sinistra e non dicono a chi devono votare, se devono votare Mascarin o devono votare Fanesi. Ebbè, è una cosa molto molto delicata che poi ciascun elettore deve risolvere per conto proprio. Cora Fattori e Etienne Lucarelli si complimentano con Samuele Mascarin e Cristian Fanesi, i due colleghi di giunta che domenica prossima andranno al ballottaggio per il candidato sindaco. A seggi ancora caldi, non danno però indicazioni di voto su chi tra Mascarin e Fanesi potrebbero essere l'aspirante successore di Massimo Seri. Ma a questo punto diamo un'occhiata anche al resto del Carlino per vedere come il giornale tratta i commenti del post-elezioni. Il dopo primarie, la geografia del voto, a Mascarin la ZTL, Lucarelli spopola al sud. Ebbene, il resto del Carlino ha fatto una disamina di come i quattro candidati hanno ricevuto voti nei quartieri e nelle frazioni della città. E allora, diamo un'occhiata anche noi a questa tabella. Vediamo per esempio che Samuele Mascarin ha ricevuto il più alto numero di voti di consensi, 231, nella zona di Centromare. Mentre Cristian Fanesi, esponente del Partito Democratico, ne ha ricevuto i 206 a San Lazzaro e tiene Lucarelli 183 a Metauriglia, mentre Cora Fattori ha raggiunto il più alto numero di consensi, 92 a Poderino. E poi, ovviamente, ci sono anche altri voti. Mascarin stesso ha avuto una bella, grossa affermazione a Poderino con 223 voti. Mentre Fanesi, ai 206 di San Lazzaro, ha associato il 117 di Sant'Orso, mentre tiene Lucarelli, 183 a Metauriglia, e poi ancora 94, sia a San Lazzaro che a Sant'Orso. Quindi due quartieri che hanno avuto dei consensi rilevanti per il candidato di noi civiche e esponente del civismo. Cora Fattori, abbiamo detto 92 a Poderino, e poi ancora 81 a San Lazzaro e 114, 114 a Centromare. Anche lei, una bella affermazione appunto nel centro storico e nella zona mare della città. Una dichiarazione di Cristian Fanesi, esponente del Partito Democratico che domenica prossima se la vedrà con Samuele Mascherin di Incomune. Fanesi, la forbice è minima, richiamerò tutti. Ed è una intervista che Maurizio Gennari fa al candidato del Partito Democratico. Ebbene, dice Gennari che Fanesi e Bartali e Mascherin e Coppi. Vediamo un po' chi se la... chi vincerà magari può darsi che qualcuno passi la bottiglia all'altro come è successo tra i due campioni del ciclismo italiano. Ed ora passiamo ad un'altra notizia perché proprio ieri l'assessora alle finanze Sara Cucchiarini insieme all'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti hanno evidenziato un provvedimento importante per i cittadini. Gli sgravi per quanto riguarda il pagamento della Tari che è la tassa sui rifiuti. Ebbene, ci sono molte famiglie che sono in difficoltà e che difficilmente riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e quindi pensate come per loro è difficile pagare tasse come quella sui rifiuti. E allora il Comune viene incontro per coloro che hanno un'ISE fino a 14.000 euro non è bassissima però insomma è un'ISE abbastanza significativa vorrei dire. Ebbene, tutti quelli che non hanno che non superano questo valore potranno avere una Tari a costo zero cioè gli arriva la bolletta ma non c'è niente da pagare anno scorso sono stati poco meno di 500 le famiglie che hanno ricevuto questo beneficio e quest'anno se ne prevedono altrettante i due assessori hanno stanziato 145.000 euro rispetto ai 102.000 dell'anno scorso quindi una cifra ancora maggiore questo è il quarto anno consecutivo che si fa questo provvedimento è nato nel clima del covid quando le famiglie quando molte molte famiglie erano in grosse difficoltà però insomma vista la necessità vista la congiuntura che ancora prosegue questa congiuntura negativa che ancora prosegue allora il provvedimento è stato riconfermato ed è il quarto anno che si applica e vediamo anche come ieri si è verificato un infortunio nei lavori di una palazzina in via papiria infortunio nel palazzo in costruzione un operaio si ferisce ad una gamba è successo in via papiria necessario allertare i pompieri con l'autoscala per recuperare il 39enne che lavorava in alto in un piano alto dell'edificio i vigili del fuoco sono andati con l'autoscala salendo fino al terzo piano di un enorme palazzo in costruzione perché nonostante fosse ferito e fosse stato chiamato il 118 non si riusciva a tirarlo giù per portargli soccorso comunque non è per fortuna in pericolo di vita Ponte Mimmo è quasi pronto investimento da 280 mila euro continua il resto del Carlino abbiamo visto la notizia anche sul Corriere Adriatico che ora riprendiamo per quanto riguarda le altre notizie e siamo qui sulla ancora pagina che riguarda Fano anche se l'articolo è stato messo sulla pagina della Valmetauro azzeriamo la tassa su rifiuti alle famiglie con reddito basso e qui vediamo i due assessori che hanno così spiegato nella giornata di ieri questo nuovo provvedimento tinti e cucchiarini nuova piscina pista ciclabile senza sottopasso l'argomento è tornato in dibattito ancora una volta in consiglio comunale dove grazie ad una interrogazione questo è un degli obiettivi che si sono posti è uno degli argomenti preferiti del movimento 5 stelle ed è stato proprio Panaroni l'altra sera ad evidenziare come per raggiungere la nuova piscina il nuovo impianto natatorio è stato realizzato nei pressi dell'aeroporto sia difficoltoso per i ragazzi che vanno in bicicletta questa nuova pista ciclabile ancora non è stata realizzata e soprattutto si vuole così assicurare una maggiore sicurezza dell'attraversamento della strada molto molto trafficata accanto all'aeroporto sottopasso per quanto riguarda i 5 stelle probabilmente una semaforo a chiamata per quanto riguarda l'amministrazione comunale ed ecco perché i 5 stelle lamentano che non ci sia un sottopasso che renderebbe la viabilità più sicura a Cantiano a Cantiano si svolge una bella manifestazione una occasione in più per fare una bella passeggiata domenicale fuori porta show trekking e turismo cavallo del Catria in fiera a Cantiano il 4 e 5 maggio c'è l'edizione primaverile della manifestazione ma anche l'entroterra non è indenne dalla cronaca ladri mascherati a frate rosa falliscano l'assalto ad una casa avevano preso di mira una abitazione di una famiglia tedesca sono entrati con il proposito di depredarla ma è scattata l'allarme e questo così ha messo paura agli intrusi e se la sono dati a gambe senza rubare nulla però insomma queste continue incursioni ancora nelle abitazioni isolate del nostro introterra mettono in pericolo e danno un certo timore sia agli amministratori che agli abitanti vediamo Senigallia Senigallia Ponte Garibaldi Commissione Beffa è stata convocata ma dovrà essere rinviata probabilmente perché i maggiori interlocutori saranno assenti troppe le assenze in titola il giornale ora occorre definire un'altra data non ci saranno nel vice commissario Babini nel presidente della regione Marche Francesco Acquaroli il partito democratico dice riconvocatela non la fate senza questi due esponenti che sono essenziali poi per definire la questione del ponte Garibaldi che qui vediamo in una foto in questa posizione attraverso il torrente Misa allora abbiamo visto un po' le pagine fanesie dell'entroterra e passiamo a quella di Pesaro dove si fa un esame dei lavori che coinvolgono la prossima stagione turistica in modo particolare nelle spiagge ancora una volta qui manca il personale spiange senza personale chi ha esperienza snob rispondono solo i ragazzi in bar hotel e ristoranti la stagione parte con una pesante incognita i gestori noi però siamo convinti di offrire retribuzioni adeguate per un cuoco vengono offerti anche 2.500 euro al mese sì è un lavoro impegnativo un lavoro sacrificato perché poi si sacrificano proprio i mesi più belli dell'anno però insomma 2.500 euro è uno stipendio accettabile se non trascendentale voglio dire passiamo alle altre notizie vediamo che si parla di emergenza abitativa a Pesaro case introvabili per i soggetti fragili ma l'era papeso ha 41 alloggi vuoti c'è un intervento di Biancani l'assenza di manutenzione i dati sulle disponibilità la regione faccia la sua parte Biancani è il nuovo candidato sindaco del PD di Pesaro ma continua ovviamente la sua attività quale consigliere regionale e appunto tira in ballo non perde l'occasione tira in ballo alla responsabilità della regione là dove questa può incidere effettivamente con i suoi provvedimenti bene l'iniziativa del Comune e dell'assessore Conti che hanno firmato un patto con un patto per l'abitare con la Caritas che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini alla ricerca di un alloggio attraverso diverse strategie di intervento sul mercato degli affitti sia di delizia pubblica convenzionata e quella sovvenzionata tuttavia non basta bisogna fare ancora di più tiriamo ancora la pagina sul Corriere Adriatico per soffermarci un attimo su questo articolo che riguarda Luca Pandolfi presidente della TS1 è assessore alla solidarietà teatro e artigianato in carcere l'AST investe sul reinserimento l'ambito territoriale sociale numero uno mette in campo oltre 77 mila euro per progetti di inclusione e reinserimento per coloro che hanno avuto dei conti con la giustizia ebbene un contesto spiega Luca Pandolfi su cui è opportuno e doveroso investire lui dice come istituzioni per tentare di tutelare il diritto sancito dall'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione e recupero del detenuto e le forme sono quelle appunto del teatro in modo che si manifesti la propria personalità magari associandola trasferendola in quella di un personaggio da commedia e poi quella dell'artigianato che coinvolge la manipolazione cioè l'attività manuale proprio e la creatività di ciascun autore di ciascun personaggio e questo è il Corriere Adriatico ritorniamo ora sul resto del Carlino abbiamo visto l'incidente che si è verificato in via Papiria dove un lavoratore si è infortunato e vediamo anche l'esito di questa bella manifestazione che si è svolta domenica scorsa a Mondolfo con la Spaghettata beh c'è stata una partecipazione record domenica alla 76esima edizione di questa iniziativa gastronomica che vanta una ricetta particolare una ricetta depositata spaghetti con tonno e alici sono molto molto appetitose oltre 4.000 porzioni sono state servite del rinomato piatto mondolfese che hanno richiesto per la loro preparazione pensate la bellezza di 5 quintali di pasta e altrettanti di sugo tonno e alici che dal 2018 è ascritto tra i prodotti tipici regionali complice ovviamente la bellissima giornata di sole dal mattino all'ora di cena il centro cittadino è stato veramente gremito di persone giunte anche da fuori e a proposito di iniziative di gastronomia vediamo che anche Urbino non è da meno con Tiello Stretto così si intitola questa manifestazione ecco il sapore dei suoni doppio evento da giovedì a Borgo Mercatale con gastronomia e musica sono due cose che si intessecano che combaciano insomma che agiscono insieme un silent party per un vero contorno di buona musica Tiello Stretto manifestazione itinerante di street food torna Urbino per la sua seconda edizione e invece vediamo ancora un'altra iniziativa al festival segni della notte 25 film tra il meglio dei corti sempre ad Urbino la rassegna di Dieter Vixorek aprirà con pastori della terra la giuria segnerà i premi alle ore 20 di domenica un festival che attirerà anche questo diverse persone vediamo anche qualche notizia pesarese quella che è più importante è questa respinti dal cup aiutatici mesi in attesa di un intervento ebbene il resto del Carlino insiste dopo quell'articolo pubblicato da un pubblicato da un operatore del cup che ha avuto lui stesso bisogno di prenotare una visita e che si è visto assegnarsela dopo tanto tanto tempo così come lui ha dovuto fare poi per altri utenti quando era in servizio ebbene ora questo articolo sta causando una buona risonanza e quindi questo problema torna ancora una volta in superficie e in emergenza bene questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 al TG occhio alla notizia di questa sera su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione